Ieri mattina i vertici di Confetra, il presidente Nereo Marcucci e il direttore generale Ivano Russo hanno incontrato il presidente dell'autorità di sistema portuale di Ravenna, Daniele Rossi, e visitato il porto. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione degli spedizionieri, Arzi, aderente a Confetra. È una delle riunioni che stiamo facendo su tutto il territorio nazionale. Ravenna, in particolare per molti motivi di affezione ai nostri associati locali e alla loro capacità di darci contributi, suggerimenti, per predisporre per i primi di settembre un position paper, in particolare sulle questioni che rappresentano, un minimo comune denominatore per tutti i porti italiani. Accentuati questi temi per quanto riguarda Ravenna, la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, la necessità di intervenire sui decisori centrali per migliorare la situazione, la comprensione reciproca di che cosa può fare Confetra per gli associati Ravennati e che cosa loro ci suggeriscono per essere più utili, perché il termine è esattamente questo, essere più utili. Abbiamo quindi valutato tutto quello che ci è stato sottoposto ieri sera e stamani, stamani anche con l'autorità portuale e pensiamo di poter essere in condizioni su temi specifici, l'uso dell'USMAF, la funzionalità delle dogane, la funzionalità degli altri servizi necessari all'import-export in un mondo particolare, mondo delle rinfuse, per poter rappresentare adeguatamente gli interessi dei nostri associati. Tutto questo io spero che trovi un interlocutore o più interlocutori a livello nazionale, molte questioni sono diffuse in tutti i porti, alcune sono specifiche, cercheremo di fare l'una e l'altra cosa fin dai primi di settembre. Oggi l'associazione spedizioniera ha organizzato questa visita con Confetra, che frequento in quanto membro del board di giunta di Confetra. È un'iniziativa che abbiamo caldeggiato perché riteniamo che Confetra possa supportare le istanze del porto di Ravenna in termini di crescita infrastrutturale e organizzativa del porto. Quindi una visita molto positiva, abbiamo degli obiettivi ben precisi su cui lavorare, obiettivi di ampio respiro che dovrebbero portare a qualche risultato interessante e comunque di sostegno a tutte le iniziative importanti del porto di Ravenna, che partono dalla progettualità fino ad arrivare ad argomentare in termini di efficienza dei servizi pubblici accessori alla circolazione delle merci.